L'Europa siamo noi, l'Europa siamo noi, l'Europa siamo noi, siamo noi ragazzi, l'Europa siamo noi Allora, subito, innanzitutto scrivetevi, like, fate tutto quello che volete, scrivetevi soprattutto Avremo le pagelle, ho già pronte le pagelle, sto guardando gli ultimi minuti anche della partita Siamo in finale, dopo 21 anni, dopo 21 anni, un'italiana è in finale di Europa League, Coppa UEFA Chiamatela come volete, dopo 21 anni, dopo 21 anni l'Inter a portare una squadra italiana in finale in Europa League Dieci anni, dieci anni che una squadra italiana non vince un trofeo, sempre l'Inter, sempre l'Ibetter 4-0 con Lukaku, 4-0 adesso con Lukaku, pura sto vedendo adesso con voi, 4-0 ragazzi, 4-0 E' tanta roba, è tanta roba, allora, 21 anni, 21 anni che un italiano non era in finale di Europa League Dieci anni che nessuno vince e adesso l'Inter ce la può fare Un'Inter più matura, qua adesso mettiamo un punto in più per Lukaku nella pagella, pagella è bella per tutti Cosa? Oggi avevo detto poco Lukaku, si era visto poco, però sai per un attaccante fare un gol o farne due come Lautaro E' sempre una bella cosa, non c'è stata partita, è un'Inter matura, un'Inter che stupisce, stupisce anche me Stupisce tutti questa Inter, perché sta crescendo partita dopo partita Questa competizione è stata davvero, si è trovata benissimo Adesso comunque c'è il Sevilla Attenzione, il Sevilla è praticamente, questa è invece la Sevilla League Ha vinto 5 volte, ha vinto, credo, negli ultimi 10 anni l'ha vinta 5 volte Negli ultimi 5 anni l'ha vinta 6 anni, l'ha vinta 3 volte E' chiaro che il Sevilla ci sta tanto, fa tanta paura in questa competizione Però il Sevilla ha sofferto col Manchester United Il Sevilla col Manchester United ha sofferto L'Inter sta giocando ai dietro Conte Sono tutti insieme, è una cosa che dico da sempre Giocate tutti insieme, tutti insieme, nella stessa direzione Lo stanno facendo, sono tutti dietro Conte Si vede, si vede, ragazzi Mi sono visto il 4-0 pure in diretta Si vede Possono farcela, possiamo vincere questa Coppa Allora l'Inter ha fatto 9 finali fino adesso europea Ne ha vinto 6 e ne ha perso 3 Possiamo vincerne 7 Possiamo vincerne 7 Può essere la settima grande Coppa che ci portiamo a casa E sarebbe tantissima roba Sarebbe tantissima roba Rossicherebbero tutti Comunque questo è un altro discorso Non mi voglio esaltare perché ancora la partita dell'Inter-Sivilla deve esserci Ma merito, merito, bisogna darlo Merito a Conte, merito ai Nerazzurri Merito ai giocatori, merito alla società Merito a tutti che comunque Fino all'ultimo ci stanno facendo divertire Cioè siamo arrivati all'atto finale Ci sarà una partita che ho già Già la tensione, già ancora stanno giocando La tensione sta aumentando C'è uno dei... Allora, chi segue le mie live Quando si facevano le live Comunque Chi segue le mie live Sa che è uno dei tifosi prestati Per il... Appunto questo canale E' Sam Sam che vedete vi saluta Che ha la sua bella sciarpetta Questo per gli amanti della live di Diego CTN Chi sapete benissimo cosa significa Questo Vi sta salutando Salutali Sam Questo Appunto per chi vede le live Siete tanti, siete tanti Era un gioco così Siamo contenti oggi Ragazzi Le pagelle Le pagelle Le pagelle Andanovic 6,5 Una parata doveva fare Una parata ha fatto Un solo tiro vero è arrivato in porta Lui l'ha parata Benissimo 6,5 Godinne 6,5 Lo sceriffo è ritornato Si vede più forza Più sentimento Quando negli scontri Più sicurezza Devrai 7 E lui Quello che è veramente Se gli altri vanno bene Perché va bene lui Un po' se l'ha perso Devrai Adesso ha riacquistato Diciamo La forma La sicurezza 7 Devrai Bastoni 6 Ha giocato bene Questo giocatore stupisce sempre di più Però 6 Non ha fatto grandi cose Però C'è È stato ben in campo D'Ambrosio 7 Era già 6,5 Col gol Gli do 7 Perché comunque ha combattuto dall'inizio Ha dato schiapponi a destra e a sinistra Ha fatto sentire i tacchetti a tutti Ci voleva Ci voleva È molto più ordinato di Candreva Ed è molto meno Molto meno ansioso Nel gioco Rispetto a Candreva È molto più sicuro 7 Brosovic 6 Brosovic Aspetto la grande partita Che lo possa debilitare Ma sta un po' soffrendo In questo centrocampo Però alla fine Il suo Lo fa Barella 7 Ha preso tutto Ha preso tutto Cioè se questo centrocampo è forte Barella Quando è mancato Che è stato infortunato L'Inter è caduta L'Inter giocava male Perché Barella è fondamentale Per questa Inter Quindi Barella 7 Davvero Prende di tutto Gioca tutto Gagliardini 6,5 Bene 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 Ordinato Bene Ben messo in campo Bello cazzuto Mi è piaciuto Gagliardini 6,5 Ha fatto la sua Onestissima partita Young 6 Ne infame Ne lode Ha fatto anche lui La sua partita Non particolarmente brillante Però molto attenti In difesa Giustamente Era una semifinale Quello che doveva fare Lukaku 6,5 Era 6 Perché avevo visto poco Lukaku Però ha fatto il gol E per un attaccante Fondamentale Che ha segnato Per la decima volta Consecutiva in Europa League Lukaku 6,5 Lautaro 7,5 Si era visto già dall'inizio Oltretutto il gol L'aveva sbloccato Anche mentalmente Ha fatto uno Due nazioni Pericolosissime Ha fatto il secondo gol 7,5 È stato davvero Averlo là davanti È stato molto importante Dei subentrati Niente di particolare Signor Antonio Conte 8 Signor Antonio Conte 8 Lukaku Fa il quinto gol Gli diamo 7 Gli diamo 7 A Lukaku Cambia la partita 5-0 Ragazzi Luconte 8 Cioè Va bene Tanta roba Tanta roba Più sicurezza Più sicurezza Più sicurezza Ragazzi Che devo dire Che devo dire Che devo dire Qua è davvero Proprio spacca tutto Quest'Inter Dai Bravo Mi fa piacere 8-8-8 A Conte Io avevo dato voti bassi Quando l'Inter ha perso Perché lui si lamentava Perché lui faceva Perché lui diceva Ma a vederlo Io questo voglio Lo voglio vedere Insieme alla squadra Lo voglio vedere Che tifa Si può anche perdere Antonio Conte Però io ti voglio vedere Così bello Aggressivo E incazzato Allora sì Che esce l'Antonio Conte Che piace a tutti E che si prende un bellotto Bellotto Sam Sam 5-0 Sam Salute sempre tutti Ragazzi È stato È bello È bello È bello È bello 5-0 Siamo in finale Siamo in finale Io qua Adesso che devo fare Devo aspettare Che finisce questa partita Che può finire pure 6-0 Adesso Luca Come lo stanno facendo uscire Giustamente Stanchetto Due golle Aveva pure giocato male Ragazzi Siamo in finale Siamo in finale Dopo 21 anni Una squadra italiana In finale Per quanto riguarda l'Inter Dopo 10 anni Siamo di nuovo in finale Dopo la vittoria Che abbiamo avuto Col Bayern Col Sevilla Il Sevilla ha sofferto Ha sofferto Con Manchester United Quindi si può fare Bella Bella Oh iscrivetevi Iscrivetevi Clicchi Clicchi Iscrivetevi Mettete un like Un like è un fiore È un fiore un amore Lo sapete tutti Un like Mettere like Nei miei video Porta fortuna Quindi fate un po' voi Commentate Campanella Ciao ragazzi In finale Ciao 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 ciao